I prese per l'Olimpica Basket. Nella prima tranche della settima giornata del campionato di Serie C Silver a mercoledì sera, i gialloblu di Giovanni Gesmundo hanno vinto in trasferta per 78-75 contro il Ruvo di Fuglia. C'era bisogno di ampio riscatto dopo la deludente prestazione con sconfitta interna di sabato scorso ad opera della Libertas Altamura. La gara è stata vincente sin dai primi minuti con Taylor fra i padroni di casa che ha dato del filo la torcere ai vari Barreiro, Walker, Bacchini e Romano che non si sono mai disuniti ed hanno tenuto testa agli avversari in maniera strepitosa. Il punteggio è stato sempre altalenante ma lo spettacolo ne ha guadagnato parecchio così come negli ultimi minuti finali quando Ruvo sbaglia la palla del sorbasso e l'Olimpica vince di soli tre punti. Adesso poco tempo per rifiutare, bisogna preparare la sfida interna del 31 ottobre contro Brindisi sconfitta in casa dall'Enardo per 83-42.